Ben ritrovati cari amici del benessere. In questa puntata con la dottoressa Marianna Berizzi parliamo della differenza tra il cervello della donna e il cervello dell'uomo. Dottoressa, le donne vengono da Venere e gli uomini da Marte, era il celebre titolo di un libro di John Gray che è diventato famoso proprio per sottolineare queste differenze. Ma non sono soltanto miti, esiste proprio una differenza fisiologica tra il cervello dell'uomo e della donna? Sì, a scapito della simpatia da parte delle femministe devo comunque asserire che esistono realmente delle differenze. Oltre alle differenze genetiche, ormonali, noi abbiamo differenze a livello strutturale, fisiologico ed anatomico. Oltre naturalmente a quelle differenze che sono sopraggiunte per processo evolutivo, sempre a livello cerebrale. Quindi partiamo con un primo dato shock per noi donne. Oggettivamente il cervello di una donna è l'8% più piccolo rispetto a quello di un uomo. Ma non per questo significa che funzioni di meno o che ho presenti delle potenzialità inferiori. Un uomo e una donna, parità di quoziente intellettivo, presentano una differenza sostanziale. L'uomo presenta 6 volte e mezzo in più di materia grigia, mentre la donna presenta 10 volte in più di materia bianca rispetto all'uomo. L'uomo ha probabilmente un'intelligenza di tipo strutturale, statica volendo ben vedere, quindi più razionale. A differenza della donna che presenta un'intelligenza più fluida, più elastica, quella che poi alla fine noi vorremmo definire multitasking. Quali sono i motivi che portano a queste differenze? Allora, sono state notate in ricerche maggiori connessioni tra la parte anteriore e posteriore nell'uomo rispetto alla donna. Così come la donna fa un uso maggiore dell'emisfero destro rispetto all'uomo che sfrutta maggiormente l'emisfero sinistro. Quindi questo cosa significa? Significa da una parte che l'emisfero sinistro presenta la razionalità, come avevamo detto prima, mentre l'emisfero destro è la creatività. Maggiore connessione con la parte anteriore e la parte posteriore significa buone capacità viso-spaziali, mentre la donna che presenta una maggiore attività nel lobo frontale vuol dire che più volte afferisce alla zona limbica, quindi a tutta la parte emozionale barra emotiva. È vero che partiamo da una predisposizione strutturale, però è vero anche che queste possono essere le conseguenze evolutive. Per quale motivo? L'uomo era adibito alla caccia, quindi doveva essere capace ad affrontare il pericolo, quindi essere meno previdente, meno ansioso, uscire in spazi aperti, riuscire a cacciare e ritornare alla propria abitazione senza GPS. Ecco, al contrario la donna doveva restare nell'abitazione con la presa in cura dei piccoli e quindi stare anche attenta a preservare la loro salute. Una donna, se passeggia con il proprio partner, è capace, pur mantenendo lo sguardo dritto, a vedere un bellissimo paio di sandali in saldo nella vetrina di sinistra, oppure notare che il proprio partner con la coda dell'occhio ha guardato la ragazza che proveniva dal verso opposto. Perché naturalmente la capacità visuo-spaziale di una donna è più aperta, perché nel momento in cui usciva dall'abitazione doveva vedere se c'erano pericoli a destra e a sinistra prima di far uscire i piccoli. Quindi, volendo ben vedere, le nostre differenze, che talvolta ci portano ad essere non solo differenti, ma anche distanti, sono delle condizioni necessarie affinché noi possiamo preservare la nostra specie. oltre a rendere un pochettino più interessante l'interazione tra uomo e donna. Visto che stiamo parlando di evoluzione, la donna può imparare a parcheggiare nel futuro? Certo che può farlo, è una questione di abitudine. Un altro mito forse da sfatare è che le donne sono più chiacchierone, che sono più comunicative, hanno più bisogno di parlare? Le donne semplicemente sono più emotive. Noi riusciamo ad accedere al nostro sistema limbico, quindi a quell'area frontale, o meglio, quell'area che risiede nel lobo frontale, più degli uomini. Quindi abbiamo una capacità più fluida nel linguaggio, ma abbiamo anche una capacità di rendere più produttivo il nostro linguaggio e anche più ricco di emotività e di emozionalità. A volte una donna, quando ha un problema, ha solo bisogno di parlarne, non di trovarne la soluzione in maniera immediata, cosa che invece necessita normalmente un uomo. Quindi la chiacchiera è anche un sistema per rilassarsi e per raccogliere le proprie idee. È un mito da sfatare quindi che le donne di fronte ad una mappa geografica vanno in crisi e non si sanno orientare? Sì, è vero, sette donne su dieci, poi naturalmente esiste l'eccezione, hanno difficoltà ad orientarsi, quindi benedetto sia il GPS, così come c'è difficoltà nel fare un parcheggio. Abbiamo aperto con il titolo di un simpaticissimo, interessantissimo libro. Concludiamo con un altro libro, a mio avviso, splendido da leggere, tre pagine tutte le sere prima di andare a letto col proprio partner, che è perché le donne non sanno leggere le cartine e perché gli uomini non chiedono mai informazione. È scritto dai coniugi Peers, dove alcuni luoghi comuni vengono, diciamo così, concretizzati sul perché delle differenze. Quindi mi verrebbe da dire, potrebbe essere molto carino che il partner insegni il parcheggio in retro alla propria compagna, senza continuamente far presente che le servono quattro manobre, così come noi potremmo capire perché il nostro partner, mentre sta facendo una cosa e noi proviamo a fargli una domanda, si innervosisce. Perché non ce la fa? Perché non ci riesce? Perché quelle connessioni tra emisfero destro ed emisfero sinistro non ci sono. Grazie dottoressa per i suoi consigli e questa interessante analisi. Grazie a voi. Grazie a voi dell'attenzione. Ci rivediamo nella prossima puntata. Arrivederci. Arrivederci.